Una due giorni di formazione team building per sviluppare lo spirito di squadra e il senso di appartenenza con particolare riferimento ai temi della responsabilità e della sostenibilità sociale e l'essenso dell'iniziativa della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldessi di Firenze che lunedì porterà 50 studenti nelle strutture di Dynamo Academy all'imestre sulla montagna pistoiese. Impareranno che al terzo settore, quindi l'associazione si dà ma si riceve anche e in questo caso i ragazzi andranno a fare del team building e quindi impareranno a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni. Abbiamo scelto Dynamo Camp perché è un modello unico in Italia dove oggi i bambini affetti da gravi patologie riescano a tornare bambini. L'iniziativa si realizza grazie al contributo della multinazionale KME, socio fondatore di Dynamo Camp e sostenitore della Scuola di Scienze Aziendali. Riteniamo che per i giovani avere nel percorso formativo un'esperienza specifica formativa di responsabilità sociale di impresa possa veramente qualificarli come futuri manager e futuri imprenditori per il bene loro della loro azienda e anche per il futuro del paese. Grazie. 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 Grazie.